Ecco perché nel Medioevo era meglio non far arrabbiare troppo chi comandava. Allora, la forma più terribile di tortura medievale era chiamata oubliette, conosciuta anche come la stanza dimenticata. Dal francese, oubliette, appunto, dimenticare. Allora, si trattava di un pozzo profondo circa due metri e mezzo, chiuso con una grata e così stretto che un essere umano poteva soltanto stare in piedi al suo interno. Nelle oubliette venivano rinchiusi i prigionieri che si erano macchiati dei peggiori reati e spesso erano costruite all'interno delle mura del castello in modo che il malcapitato subisse l'ulteriore tortura di ascoltare i suoni della vita frizzante del palazzo. A volte nelle oubliette veniva gettato del cibo con lo scopo di mantenere in vita il prigioniero e quindi torturarlo il più a lungo possibile. Se il prigioniero però non riusciva a prendere il cibo al volo, diciamo così, questo si depositava sul fondo del pozzo ai suoi piedi e quindi non potendo raccoglierlo perché non c'era abbastanza spazio per chinarsi, questo cibo attirava i topi che spesso si nutrivano anche delle carni del prigioniero. Ciliegina sulla torta poi, per rendere la tortura ancora più atroce, spesso alla base del pozzo venivano messe delle pietre accuminate che quindi oltre a provocare un dolore inimmaginabile al prigioniero gli facevano sanguinare i piedi, attirando quindi i topi anche in assenza del cibo. Bene, questo è tutto. Spero che questo video ti abbia fatto rivalutare il nostro sistema giuridico e se ti va fammi sapere cosa ne pensi. Grazie mille per l'attenzione. Alla prossima!